benvenuti in questa guida top 7 wallet hardware di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo cqv 20 portafoglio hardware cqv 20 è un portafoglio hardware crittografico di ultima generazione offre una sicurezza avanzata una connessione bluetooth multipiattaforma e una gestione semplice dei tuoi bitcoin itereum btc ed ltc doge bnb dash xlm e rc 20 e altri wallet hardware punto sesta posizione al sesto posto troviamo ledger family pack s plus è una soluzione di sicurezza eccellente per la conservazione delle criptovalute la sua interfaccia intuitiva e le sue funzionalità avanzate rendono l'utilizzo semplice e veloce il family pack s plus include tre wallet hardware ledger nano s che offrono una protezione aggiuntiva per i tuoi fondi punteggio 75 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo ledger nano x portafoglio ledger nano x è un portafoglio hardware di ultima generazione che offre un backup sicuro delle seed words la massima protezione dei tuoi bitcoin itereum erc 20 e tanti altri token compatibile con wallet bip 39 è una cold wallet affidabile e sicura per conservare i tuoi asset digitali punteggio 87 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare wallet hardware per criptovalute ledger il ledger nano x è un wallet hardware di ultima generazione che offre una sicurezza senza pari per i tuoi asset digitali dotato di bluetooth è facile da usare e gestire l'arancione fiammante lo rende ancora più attraente un ottimo modo per acquistare punteggio 81 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo treasure model t portafoglio treasure model t è un portafoglio hardware di criptovaluta di nuova generazione con un touchscreen lcd a colori usbc e una sicurezza avanzata è facile da usare e offre un modo sicuro per archiviare bitcoin itereum erc 20 e altro ancora lo consiglio vivamente punteggio 90 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo ledger family pack x 3 è una soluzione di sicurezza eccellente per la conservazione delle criptovalute il pacchetto famiglia offre tre portafogli hardware che forniscono una protezione a prova di hacker e un'interfaccia intuitiva la connettività bluetooth consente di gestire le criptovalute in modo semplice e veloce punteggio 94 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica wallet hardware ledger nano s il ledger nano s plus è una wallet hardware di alta qualità che offre una protezione eccezionale per le criptovalute i token nft e i token la sua costruzione robusta e resistente all'acqua lo rende ideale per la conservazione a lungo termine delle tue risorse digitali punteggio 98 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti